Ciao a tutti, è un po' che non ci si vede su questo canale, è un po' che non ci si sente, siamo stati un pochino impegnati nell'ultimo periodo e ho realizzato che io il primo video su questo canale l'ho caricato nel 2011, aprile 2011, era un video su PKPNA terribile sotto ogni punto di vista e nel 2013 la pagina Facebook, bentenni che piangono leggendo la sacca di Papperone e Papperoni, 2018 Instagram, insomma sono cambiate tante cose in questi anni e quest'anno ne cambieranno ancora perché arriveranno tante novità possiamo dire e tante cose belle che vanno a festeggiare anche questi per esempio se vogliamo dieci anni poi dell'attività della pagina Facebook. La prima che è imminente ormai è l'uscita del nostro primo libro che pubblicheremo con Nicola Pesce editore, ossia ma legge ancora Topolino che uscirà in tutte le librerie recometterie il 3 di febbraio. Ecco, cosa possiamo dire su questo libro? Cosa possiamo dire? Possiamo dire che su questi dieci anni di attività un paio sono andate alla lavorazione di questo libro, possiamo dirlo? Sì, possiamo dirlo. È stato un libro, come dire, che ha voluto celebrare in qualche modo ma non tanto come un anniversario quanto proprio come voglia di dire qualche cosa no? Abbiamo sempre avuto voglia di dire delle cose su internet, l'abbiamo fatto e lo facciamo in tanti modi diversi. Questo libro era un po' un modo ulteriore per essere liberi di spaziare, di raccontare, di raccontare il nostro amore per queste storie, per questi personaggi, per questo mondo incredibile che è il fumetto Disney. Infatti è un libro lungo, sono 336 pagine, sono centinaia abbondanti, forse 120. 120, immagini ovviamente tutte a colori, un bel volumazzo insomma che siamo sicuri senza un po' di immodeste non sfigurerà la nostra libreria insomma. Ed è imminente l'uscita 3 febbraio, come diceva il mio socio, ma se qualcuno se lo volesse accaparrare prima possiamo... C'è un preordine. C'è un preordine. C'è un preordine, vabbè lo linkeremo in descrizione sicuramente. Il libro ovviamente è un punto di arrivo ma è anche un punto per certi versi di ripartenza perché se comunque è un progetto che ci ha impegnato negli scorsi due anni, sicuramente adesso che comunque ci dedicheremo alla presentazione del libro ci potremo dedicare anche a tanti altri progetti collaterali che speriamo di portare presto all'attenzione insomma di chi ci segue. Che dire, anche per quanto riguarda la struttura del libro eccetera, magari vi rimando alle presentazioni che faremo in varie città, poi appunto pubblicheremo man mano gli aggiornamenti e niente. Perché c'è già una prima data, c'è già una prima data. C'è una prima data. Siete a Bologna o dintorno, se volete voglia di spingere vicino a Bologna, sabato 28 gennaio cioè esattamente tra pochissimi giorni saremo alla celeberrima fumetteria Alessandro Distribuzioni per presentare in super anteprima il volume per farvelo avere in anteprima, quindi se volete averlo prima degli altri, una settimana prima degli altri, venite a Bologna. Portate pignoletto, portate tortellini, tutto quello che volete. Saremo felici di sproloquiare un po' sul libro e di farvi una reddica se... Di abbracciarvi, di baciarvi, sempre con le dovute età. Sempre con il consenso. Alle 16.30 presso Alessandro Distribuzioni. Quindi che altro dire? Stay tuned direi proprio, è il caso di Dio. Caso di Dio. Ciao.